Buongiorno amici di Unione Professionisti e benvenuti al nostro nono appuntamento con Unione Professionisti On News. In questa puntata parleremo di cessione delle aree demaniali, un'importante opportunità di lavoro per i geometri, contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Arrivano dagli ordini dei consigli provinciali le prime richieste di modifica la normativa, le interviste di Unione Professionisti, social media, formazione professionale, crisi della professione, il punto sulla professione di architetto da parte dell'ex presidente Leopoldo Freiri. Il tema dell'accessione delle aree demaniali e delle nuove opportunità di lavoro per i geometri sono stati al centro del seminario promosso dall'Associazione Italiana Geometri Consulenti Ambiente e Territorio, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, CIPAC, Fondazione Geometri Italiani e il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Treviso. L'accessione delle aree demaniali può essere un'importante opportunità di lavoro per i geometri, in grado di valorizzare il patrimonio di professionalità tecniche e conoscenze detenuto dagli stessi. E' questo il messaggio arrivato da Treviso dove si svolta un seminario sul tema dell'accessione delle aree demaniali e sulla sdemanializzazione delle stesse. I Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Cuneo di Monduvì, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cuneo, esaminato il testo del Decreto Legge 2039-2015, contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, hanno ritenuto opportuno costruire un tavolo di lavoro unico. Lo scopo è quello di esaminare nei dettagli il testo del Decreto Legge e porre così all'attenzione dei legislatori le eventuali criticità rilevate e le problematiche che potrebbero emergere dall'approvazione del Decreto di Legge così come oggi redatto. Dell'architettura ci sarà sempre bisogno, soprattutto di fronte alle sfide difficili del riuso della città, dei cambiamenti climatici e della sicurezza dell'abitare. Lo Stato negli ultimi vent'anni ha dato il peggio di sé tra burocrazia e corruzione nei lavori pubblici, ma nessuno di noi è esente da colpe. Per molti anni, quando si lavorava molto e tutti, solo in pochi si sono preoccupati dell'edilizia espansiva e di bassa qualità, dell'affermarsi di professionisti solo bravi a ottenere permessi e a fare sconti ignobili pur di ottenere un lavoro. La soluzione passa da regole chiare. La responsabilità verso i cittadini e ambiente è il grande innalzamento della qualità dei nostri progetti. Con il piove governo ladro si ottengono molti applausi, ma nessun cambiamento. E' questo il punto sulla professione dell'architetto da parte dell'ex presidente Leopoldo Freire. Questa terza notizia chiude la nostra puntata di Non è Professional News. Vi salutiamo ricordandovi come sempre di condividere il video, iscrivervi al nostro canale YouTube e alla newsletter sul blog di Non è Professional News e di seguirci su tutti i social. L'appuntamento come sempre è per il venerdì prossimo, sempre qui su Non è Professional News.